E' il momento di presentare lui, appena entrato con l'orchestra Casa Dei, viene da Parma, è un grandissimo fisarmonicista, tutta, come si dice, un predestinato, la strada sbianata per, insomma, diventare un grande. E facciamo gli un applauso perché a poco più di vent'anni un grande applauso a Giacomo Serpagli alla fisarmonica, che ci presenta un tango da sapore internazionale, eh? Te lo ricordi come si chiama? Non posso dirlo. Lo dobbiamo presentare, come facciamo a dirlo? Perché è segretando. E' un segreto, quindi. Segretando Giacomo Serpagli. E' un segreto, è un segreto, è un segreto. E' un segreto, è un segreto, è un segreto. E' un segreto, è un segreto, è un segreto. E' un segreto, è un segreto, è un segreto. E' un segreto, è un segreto, è un segreto. E' 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 un segreto, è un segreto, è un segreto. E' un segreto, è un segreto. E' un segreto, è un segreto. E' un segreto.